M 235i Coupé 326 cavalli Io l'ho preparato un testo da dire ma questa macchina è troppo bella, parla da sola Parlano chiaro anche i dati diffusi a BMW 6 cilindri in linea, 3000 turbo benzina, 450 Nm di coppia e 4,9 secondi per scattare da 0 a 100 Per non parlare poi dell'abbinamento di colori molto accattivante che risalta la sportività di questo veicolo Nera con interni in pelle ghiaccio, oserei dire letale Stiamo zitti, lasciamo parlare lei Non ha ancora due anni di vita, 24.000 km pari al nuovo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!